Andiamo con le pagelle di Maccabi Fiorentina, partita pazza partendo da Terracciano, prende 3 gol, la sensazione è che sul terzo poteva fare di più, quindi voto 5 e mezzo, i tersini 6 ad entrambi a Caiode per la media tra la bellissima palla per il gol di Inzola e l'errore in occasione del secondo gol del Maccabi dove non segue l'attaccante, rimane abbastanza piatto e poi non riesce più a intervenire. Viraghi prende 6 perché nel primo tempo soffre molto Calili sul versante di destra, non trova quasi male le misure ma nel secondo tempo dà la palla a Mandragora del Pareggio e quindi lievita la sua prestazione anche con dei cross interessanti, i centrali non sono sufficienti, 5 e mezzo a Milenkovic, bel duello fisico con Pierrot a tratti lo perdi, a tratti lo vince ma una prestazione un po' così e così, il peggiore in campo è Ranieri che prende 5, il terzo gol è frutto di un suo tackle molto 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 leggero e quindi insomma stasera altra serata no, anche con un posizionamento spesso un po' così e così, con tanto nervosismo anche nei confronti di Bonaventura, quindi 5 a Ranieri. I due centrocampisti prendono 5 e mezzo Duncan che prova a combinare qualcosa ma non è sufficiente, con Mohamed è un confronto spesso impari a favore del centrocampista israeliano, Mandragora invece 6 e mezzo, è bravo nella primo gol ad aprire subito da sinistra a destra per sviluppare l'azione sulla catena Icone e Cajode, ma è soprattutto bravo a pareggio la partita per il 3 a 3 quindi voto 6 e mezzo. I tre trequartisti, Beltran, 6 e mezzo anche a Beltran, un gol da numero 9, una partita condizionata da quel gol in un primo tempo in cui aveva fatto oggettivamente poco e si era calato anche poco nella partita, non solo per colpa sua ma anche per tutto l'atteggiamento della squadra. Agli esterni Icone e Gonzales valgono 5 e mezzo, da loro ci si aspetta qualcosa di più, Nico si è fatto vedere per qualche spizzata di testa, Icone ha avuto una buona occasione il primo tempo ma per entrambi è mancato lo squillo finale. Sette Anzola, migliore in campo, gol e assist, nella speranza che così come in Serbia il vento di Europa porti bene al suo rendimento, ha fatto tutto bene, in occasione il gol di testa schiacciando anche il pallone, ha fatto tutto bene apparecchiando per l'assist di Beltran. I subentranti ovviamente setta a Barak, decisivo come a Basilea, alla fine 6 a Buonaventura e anche a Belotti, Buonaventura ha scandito le folate offensive della Fiorentina nel finale da avere proprio registra, mentre per quanto riguarda Belotti tanti cross gli sono arrivati ma non è mai riuscito a prendere il tempo a sec, senza voto sottili, diamo un 6,5 italiano perché questa vittoria comunque lancia la Fiorentina con un piccolo vantaggio in vista del ritorno, non era scontata dopo essere andati sotto due volte ma rispetto a Torino stavolta la sua priorità numerica viene sfruttata.